Perché scegliere il Neolit? Ora vi mostrerò i 9 punti di forza di questo innovativo materiale. Il grado di assorbimento del Neolit è praticamente nullo perché ha una porosità dello 0% e questo lo rende praticamente impermeabile. Neolit è un materiale naturale al 100%, le sue decorazioni vengono fatte mediante una base ad acqua e il peso specifico è davvero minimo, il che lo rende un materiale leggerissimo. Il piano può essere spesso 1.2 centimetri o 2 centimetri, ma non si utilizza soltanto per fare il piano. Si possono fare le ante, si possono fare i fianchi delle isole, i fianchi della cucina, è un materiale estremamente versatile, oltre alla possibilità addirittura di avere la vasca integrata all'interno del top. Spero che la presentazione vi sia piaciuta. I nuovi modelli di stanza cucina sono qui in negozio, ma non sono gli unici. Ci sono ben 20 modelli, 20 composizioni della stanza cucina da vedere qui, nella sede di Dotolo Mobile a Mirabelle Clano. Vi aspetto!